Eccoci in compagnia del Mr. Marina Giulia Guida Schirini. Oggi è un partito difficile contro Valdaveto, bestia nera chiaramente perché ha sempre messo un po' di difficoltà. Nonostante questo abbiamo vinto lo stesso. Come l'ha vista la partita? Oggi è una partita molto difficile. Secondo me anche questa contro una buona squadra. Io non guarderei le classifiche adesso come adesso. Sono tutte squadre che ti mettono in difficoltà. Il campo non ci ha aiutato senz'altro. A noi piace molto giocare la palla. Il campo di oggi era veramente difficile. Ci abbiamo provato, abbiamo portato a casa un buon risultato. Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi oggi in campo. Sì, è un campionato difficile. Mi sembra che lo dimostri anche il risultato del Lumarzo contro Rapide, no? Sì, il risultato del Lumarzo contro Rapide dimostra che va giocata partita per partita perché, come dicevo prima, noi abbiamo proprio giocato domenica contro il Marzo. Io parlavo con il mio collega dicendo proprio che non è una squadra come il resto del Valdaveto che rispetta i punti che hanno. Secondo me sono squadre che tutti faranno fatica a giocarci perché sono molto migliorate. Non è facile giocare con queste squadre. Obiettivi prefissati per quest'anno? Obiettivi prefissati per quest'anno è quello di fare meglio dell'anno scorso. Non ci nascondiamo. Siamo una bella squadra. Abbiamo fatto delle linee importanti. Stiamo lavorando per portare ancora qualcuno con noi che ci possa fare fare ancora quel salto di qualità. Per il resto puntiamo a far bene partita per partita e al momento opportuno vedremo dove siamo per giocarci qualcosa. Prossimo match, sabato prossimo, Deiva Marina contro Real Deiva. Sì, sabato Real Deiva su un campo non facile di nuovo dove non è facile giocare. Però noi andiamo là per fare bene. Per fare bene, l'ho detto anche ai ragazzi, bisogna giocare sempre alla morte, tutte le partite. Benissimo. Ok, grazie e buona serata. Buona serata, grazie. Grazie.